L'elogio dell'amitezza e poi l'affondo sul diavolo che governa l'odio, cui noi spesso ci consegniamo. Sono i due aspetti antitetici della nostra vita, su cui si è particolarmente soffermato questa mattina Papa Francesco nell'Omelia durante la Messa nella Casa Santa Marta. Alla Messa, concelebrata da Monsignor Lorenzo Baldisserri, segretario della Congregazione per i Vescovi, ha preso parte un gruppo di guardie svizzere pontifici, alle quali il Papa ha dedicato un saluto di affetto e gratitudine. E un particolare pensiero, Papa Francesco, lo ha dedicato alle tante comunità cristiane nel mondo, vessate dalla persecuzione e costrette a subire violenze e soprusi. Ci sa pensare a quest'odio che ha il mondo contro di noi, contro i seguaci di Gesù. Pensiamo che ci odia perché lui ci ha salvato, ci ha riscatato. Nell'Omelia il Papa si è soffermato sulla lotta tra l'amore di Cristo e l'odio governato dal principe del mondo, il diavolo. Il male per sconfiggere il quale abbiamo una sola arma, la fede. Perché, ci ricorda il Pontefice, non dobbiamo farci sopraffare dalle lusinghe del male, nelle piccole come nelle grandi questioni, per evitare di percorrere il perverso cammino che dalla bugia porta al delitto contro noi stessi e contro il prossimo. Ciò che ci ha richiesto, ha sottolineato il Papa, è di restare pecorelle, cioè umili, perché tanto più ci si riempie del proprio ego, tanto più si diventano indifesi, vulnerabili. E pensiamo alle armi per difenderti, sempre rimanere pecorelle, perché così abbiamo un pastore. E essendo pecorelle siamo miti e umili.